E' venerdì 20 settembre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano e anche da Emanuela Corsi, fra poco torneremo da Emanuela per la rassegna stampa, ma intanto le notizie di oggi, l'ultimo saluto a Totò Schillaci, alle 11 a Palermo i funerali dell'eroe d'Italia 90, sulla bara La Maglia Azzurra con il numero 19, tanto l'affetto e i familiari hanno ringraziato, intanto è stata anche rinviata la laurea del figlio Mattia che era prevista proprio per oggi. Con il cuore, oltre l'ostacolo, fino alla fine. Lo ricordano tutti così, lo ricorda così anche la sua famiglia, la moglie, i figli di Totò Schillaci. Il secondo giorno di camera ardente allestita all'interno dello stadio Renzo Barbera di Palermo è stato un continuo tributo di affetto, affetto sentito anche proprio dalla famiglia, cosciente di questo legame con la città anche precedentemente. Per lui che con i colori rosa-nero non ha mai giocato, l'affetto dei padermitani non è mancato in questi giorni, sia ricordando le notti magiche e i gol d'Italia 90, che soprattutto quel che invece Totò ha fatto dopo, non da calciatore, ma da padermitano di Borgata per la sua città. Sulla bara c'è una maglia dell'Italia e una sciarpa. A lui c'è la proposta di intitolare una curva dello stadio, mentre la regione ha già deciso che si chiamerà a sala Totò Schillaci quella delle riunioni dell'assessorato regionale allo sport e al turismo, la stanza insomma dove si prendono le decisioni. Ce l'aspettavamo tutta questa gente perché comunque noi per le strade di Palermo ci fermavano sempre e l'affetto l'abbiamo sempre sentito e l'abbiamo sentito anche in ospedale da parte dei medici che hanno fatto veramente il possibile a livello medico, ma anche hanno dato tanto tanto amore. Vederdì in cattedrale alle 11.30 sono attese tutte le autorità, ma anche tutto il mondo dello sport. Un'altra occasione per l'abbraccio di Palermo. Il papà mi ha insegnato a lottare sempre, fino alla fine, a riuscire con le mie forze a crescere, a superare gli ostacoli perché lui in realtà ha fatto questo sempre da solo. Almeno per l'ultimo viaggio Totò non sarà da solo. Ad accompagnarlo ci sarà un'intera città, se non tutta una regione, visto che anche a Messina, dove invece ha giocato, è lutto cittadino. E andiamo proprio da Emanuela, in postazione per la rassegna stampa, stamattina l'ultimo saluto a Schillaci, giornali, quotidiani e regionali. Sì, vediamo su Repubblica Palermo il titolo di oggi, addio Totò. Palermo saluta Schillaci, ma niente lutto cittadino nel giorno dei funerali. Le esecue dell'eroe d'Italia 90 verranno celebrate oggi alle 11.30, come sentivamo in Cattedrale, tra Palermo e Messina la corsa a intitolare alla sua memoria strade, uffici pubblici e impianti sportivi. E poi c'è un'intervista ad un altro ex attaccante azzurro Andrea Carnevale che dice, mi chiese l'autografo e nacque una grande amicizia. E ancora, sempre Repubblica Palermo, oggi fa un reportage nei campi di calcio che proprio Totò Schillaci ha voluto costruire per dare ai bambini di Palermo una seconda possibilità nella vita, soprattutto quelli dei quartieri più disagiati, così come è accaduto a lui, i bambini della Ribolla, appunto eredi del loro idolo, la sua lezione di umiltà. E di umiltà parla anche la moglie. Vediamo nella pagina del Corriere della Sera, l'amore con Totò, un vero miracolo, ha combattuto, non voleva andare. Barbara, la seconda moglie di Schillaci, racconta quello che era suo marito, al di là poi dei riflettori, dei campi da calcio, aiutava i bambini a Palermo, ha dedicato la vita proprio al centro sportivo Ribolla per stare vicino ai ragazzi dei quartieri popolari. Ancora ti faccio vedere un'altra pagina, su Repubblica c'è un articolo di Fulvio Abate e scrive Totò preso dai turchi, che è una classica espressione che utilizziamo noi, quello sguardo che ha raccontato la periferia defraudata, la maschera e l'idioma di un campione che ha riunito la città di Franchi e la borghesia e che oggi è risarcito. Emanuela, adesso andiamo avanti con le nostre notizie, con i nostri servizi, torniamo da te fra poco per il caso Open Arms, insulti e minacce sui social, ma anche lettere anonime e allarme sicurezza per i magistrati che rappresentano l'accusa nei confronti di Salvini. E intanto la Procura di Palermo ha segnalato tutto al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. E allarme sicurezza per i magistrati che rappresentano l'accusa nel processo Open Arms a Palermo. Dopo la richiesta di condanna pronunciata sabato scorso nei confronti del vicepremier Matteo Salvini, accusato di rifiuto d'atti d'ufficio e sequesto di persona per il ritardato sbarco dei 147 migranti dalla nave, è esplosa la polemica, ma non solo politica, anche social. Ed è proprio dai social che arrivano le minacce e gli insulti, alcuni anche sessisti, per i magistrati Marzia Sabella, Geri Ferrara e Giorgia Arrighi. Hanno così deciso proprio loro di denunciare segnalando al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che ha sede presso la Prefettura di Palermo e alla Procura di Caltanissetta competente per eventuali indagini che riguardino i magistrati di Palermo. Una segnalazione che è partita attraverso la Procura Generale, questa la procedura ordinaria. Nessun commento ufficiale dai tre magistrati che si sono limitati a utilizzare gli strumenti di legge della denuncia e della segnalazione. La campagna social si è concretizzata con minacce di morte e insulti sessisti sotto le foto dei PM del processo, insulti diffusi con maggiore violenza nei confronti delle due donne. Minacce anche ai familiari dei tre magistrati che sarebbero state accompagnate anche da lettere anonime inviate in Procura Generale. È stata proprio la Procura Generale di Palermo dunque ad avviare le procedure per la segnalazione e la denuncia alle autorità competenti. Adesso andiamo a vedere proprio come i quotidiani regionali affrontano questo tema, queste minacce rivolte attraverso i social ai magistrati che rappresentano l'accusa ad Open Arms, al processo Open Arms. La Sicilia di oggi scrive dopo la richiesta di sei anni per Salvini, insulti e minacce ai PM di Open Arms. La Procuratrice Generale ha allertato la Prefettura per eventuali misure di protezione. Intanto però si parla anche di migranti in questa pagina della Sicilia. Lampedusa arrivano in 99, tra cui due donne e anche un minore. E poi ancora su Repubblica, quindi vediamo che il caso Open Arms è un caso che troviamo un po' su tutti i quotidiani, le toghe di Palermo aggredite sui social, i PM che hanno chiesto la condanna di Salvini hanno denunciato anche anomalie sui loro apparati tecnologici. Come abbiamo sentito nel servizio, sono loro tre presi nel mirino di queste minacce. Marzia Sabella, procuratrice aggiunta di Palermo, Geri Ferrara, sostituto procuratore della Repubblica, e poi Giorgia Righi, anche lei sostituto procuratore della Repubblica. Adesso invece ci occupiamo di emergenza idrica. Il dissalatore di Gela è uno degli impianti che il governo a Roma vorrebbe riattivare per fare fronte per appunto alla emergenza. Ma risulta fermo da 14 anni e solo un ammasso di lamiere e di ruggine. Vi mostriamo le immagini inedite e in che condizioni si trova proprio il dissalatore. Geri Italia. Fermo dal 2012, quando la ditta di Vincenzo lo abbandonò, il quinto modulo bis del dissalatore di Gela adesso dovrebbe essere riavviato dalla regione. Secondo il progetto di revamping che è stato messo in atto dal presidente Schifani, andiamo a scoprire quello che rimane dell'impianto di dissalazione. Già all'ingresso lo scenario non è certo dei migliori. Erbacce e ruggine hanno invaso quello che rimane del sesto modulo di un max impianto di dissalazione all'interno del sito industriale di Eni, attivo dagli anni 70 a servizio della raffineria e della città. Questo è uno dei tre impianti di dissalazione dell'isola che la cabina di regia del governo sull'emergenza idrica vorrebbe riattivare. Ma il progetto di riavvio solleva più di qualche dubbio. Quando fu realizzato nel 2006, quello gelese era un impianto all'avanguardia, ma la sua attività durò pochissimo, dismesso appena sei anni dopo anche a causa di guai giudiziari che contribuirono alla chiusura, amplificata anche dai debiti che la stessa regione aveva accumulato con Eni per la gestione degli impianti e per la fornitura dell'acqua dissalata. Su questo impianto, che è fermo ormai da più di 12 anni, la regione paga una rata di 10 milioni e mezzo all'anno a Eni per i debiti pregressi riguardo alla gestione delle acque depurate. Un debito che è iniziato nel 2016 e verrà estinto totalmente tra due anni. Oggi, a distanza di 14 anni, il quinto modulo bis è solo un ammasso di lamiere, un impianto fantasma. Rivitalizzarlo sembra un'impresa alquanto complicata e dai costi esorbitanti, come confermano anche alcune fonti interne ad Eni, che da mesi si confrontano con i tecnici regionali. Negli anni della riconversione green, infatti, Eni ha di fatto dismesso tutti gli impianti e accessori necessari alla vita stessa del dissalatore, dalla fornitura elettrica alle condutture per la raccolta dell'acqua di mare. Il colosso industriale è pronto al confronto con la regione per la rimessa in opera dei servizi, ma tempi e costi sembrano inevitabilmente crescere. Ed è per questo che si sta pensando ad accantonare l'idea per realizzarne uno nuovo. Nel frattempo, la piana di Gela rimane la più colpita dall'emergenza. Le dighe sono vuote, le condutture della rete sono ormai ridotte a colabrodo e difficilmente l'impianto fantasma tornerà a pompare acqua dissalata nelle case e nei campi gelesi. Situazione difficile anche ad Agrigento. I cittadini senza acqua da mesi ricevono le bollette per una fornitura mai avuta e scartata la protesta. Gli agrigentini sono a secco. L'acqua si compra pagando a caro prezzo le autobotti, ma oltre il danno... ...arriva la beffa sotto forma delle bollette idriche che gli agrigentini stanno trovando nelle cassette della posta con tanto di quota fissa, canoni di depurazione, spese e accessorie e altri balzelli. Intollerabile. E si è scatenata la rabbia. I cittadini non intendono sborsare un solo euro per l'Aica, l'azienda idrica dei comuni agrigentini. In particolare, i residenti di Fontanelle, particolarmente penalizzati, hanno diffidato l'Aica. Tutt'oggi, l'azienda Aica fa orecchio di mercante e decide di non attuare lo storno sull'acqua da noi acquistata privatamente. Quindi, in considerazione di questa malagurata situazione, oltre il danno, il disagio che abbiamo avuto, abbiamo anche la beffa di dover pagare per due volte l'acqua, sia dal privato che dal gestore che non ce l'ha eroga. Alla beffa di questa acqua comprata, Aica ci manda le bollette che le vuole pagate. Quindi è questa la situazione nostra, riserve, andare a Buonamorome con i bidoni, riempire e portare a casa. L'esasperazione basta più. Non fare la doccia, scendere da amici o da parenti per andarci a fare la doccia. Proprio non si può sostenere questa situazione. A loro si stanno unendo anche gli abitanti di altri quartieri che non intendono pagare le bollette e sono pronti ad una class action per ottenere il rascimento dei danni, pronto o n'esposto in procura. E torniamo ai giornali siciliani. Cominciamo il segmento, quest'altro segmento della segna stampa, proprio dalla crisi idrica, Emanuela. Esatto, perché nonostante le prime piogge, insomma, pare che ancora la Sicilia sia alle prese con l'emergenza idrica, soprattutto alcune province. Partiamo da Repubblica Palermo e leggiamo. La regione dice sì al piano AMAP, a Palermo acqua razionata, via ai turni di erogazione, a partire dal 7 ottobre. Mai così vuoti gli invasi in Sicilia. Quindi, insomma, è ancora un po' tutto da rifare, la situazione non è cambiata. E poi restiamo sulla prima pagina, vediamo anche qualche altra notizia. L'allarme è droga dello sballo. Un bambino finisce in overdose al cervello. Andiamo a leggere all'interno. Intanto questa emergenza idrica in primo piano. A Palermo dicevamo l'acqua razionata dal 7 ottobre. La decisione presa dalla cabina di regia è suggellata da una telefonata tra Schifani e la Galla, che appunto ha deciso la data. Vediamo il programma il 16 luglio. Da AMAP filtra il piano di razionamento. Ogni quartiere un giorno alla settimana non avrà acqua. Questo è quello che era stato detto quest'estate. Poi ci fu lo stop il 18 di luglio. Schifani ha imposto lo stop a questo piano. Nessuna turnazione. Le erogazioni proseguono regolarmente fino ad arrivare poi invece a questa notizia cioè che il razionamento partirà ma non come era stato detto in estate partirà il 7 di ottobre. E poi il caso di questo bambino che finisce in overdose con la droga dello sballo. Il primo caso a Palermo. La procura per i minorenni indaga sull'ultimo episodio legato allo spaccio spinnato dell'ASP. dice chetamina sempre più diffusa adesso il piccolo sta meglio. Non è la prima volta che un bambino finisce in ospedale per aver ingerito delle droghe che chiaramente poi saranno state reperite in casa. E questo è il primo caso di un bambino che addirittura finisce in ospedale con un overdose per droga dello sballo. Andiamo alla Sicilia di oggi. La prima pagina. Vediamo intanto il governatore di Banca Italia a Catania che dice il Sud cresce e bisogna aiutarlo. Panetta dice anche in Sicilia forti indizi di ripresa subito politiche di sviluppo appropriate. Poi c'è la fotonotizia qui vediamo una pecora quello che sta accadendo nelle campagne soprattutto del Catanese dopo i casi registrati a Vizzini e Palagonia allarme Blue Tong a Paternò la febbre decima un gregge il titolo è la conta delle pecore. Ancora restiamo nel taglio alto vedremo tra poco meglio l'Europa che inciampa su Kiev voto caos sugli aiuti militari gli italiani in ordine sparso tensioni a Bruxelles e a Roma appunto sul non solo il sostegno all'Ucraina ma soprattutto sull'utilizzo delle armi europee in Russia e poi per quanto riguarda l'altro fronte di guerra cioè in Medio Oriente l'attentato a Esbolla da Santa Venerina al Mossad questa è una notizia interessante che ha a che fare anche con la nostra regione la Spy Story il siculo ungherese sui cerca persone esplosivi dietro ci sarebbe anche questa ragazza appunto che abitava a Santa Venerina vedremo meglio tra poco intanto vediamo velocemente anche le altre notizie il governo in pressing controlli su chi non aderisce al concordato servono più fondi per tagliare l'IRP e fa anche qui vediamo la siccità lotta alla siccità in quattro mosse fare fretta siamo al collasso l'ennesimo SOS arriva dalla piana di Catania dicevamo questa notizia anche abbastanza curiosa a pagina 11 della Sicilia di oggi a proposito dell'attentato a Esbolla quando sono stati fatti saltare contemporaneamente tutti i cerca persone dei miliziani ecco si è indagato per capire chi avesse prodotto questi cerca persone e dietro spunta anche il nome di questa ragazza si chiama Cristina Barsoni Arcidiacono che è sulle prime pagine di tutti i giornali dall'Etna Budapest fino al Mossad la spy story sui dispositivi bomba c'è una palazzina familiare proprio all'ingresso del comune di Santa Venerina in provincia di Catania che ha un collegamento con l'esplosione dei cerca persone in Libano è lì che è cresciuta Cristiana Barsoni Arcidiacono di 49 anni che è la titolare della società Bacconsulting l'azienda che secondo la società taiwanese Gold Apollo ha prodotto questi dispositivi che sono esplosi nelle mani e nelle tasche appunto dei miliziani di Esbolla poi vediamo anche la prima pagina di Catania in primo piano c'è la cittadella della carità serve aiuto donne con figli padri separati giovani nit a loro è destinato all'ampliamento della struttura che si trova in via Santa Maddalena il nuovo progetto di padre Mario Sirica ha bisogno di fondi per partire con le attività questo è il cortile interno appunto all'edificio che ospita queste attività pensate dal parroco vediamo velocemente anche la gazzetta del sud la crisi idrica fa paura in buona parte della Sicilia fa meno paura a Messina stop definitivo all'alternanza tra zone A e B da domenica sarà l'AMAM e non più il COC a gestire adesso la richiesta d'acqua ma continuano gli affondi politici dalle tempistiche della regione al caso Taormina ieri c'è stato un incontro del sindaco che appunto ha spiegato ai cittadini qual è la situazione nel capoluogo per quanto riguarda l'emergenza idrica e poi il giornale di Sicilia con Totò nel cuore l'apertura addio a Schillaci oggi era prevista la laurea del figlio Mattia che appunto è stata rinviata per questa tragedia che ha colpito non solo la famiglia ma tutti noi grazie grazie Emanuela adesso come ogni mattina adesso attiviamo i nostri collegamenti con la polizia stradale andiamo a Sant'Agata di Militello con il sostituto commissario Massimiliano Fiasconaro buongiorno abbiamo un problema sul collegamento evidentemente forse vediamo di riprenderlo in tempi eccolo sì l'abbiamo ritrovato l'abbiamo ritrovato buongiorno buongiorno dal compartimento sicuridio orientale di Catania oggi per fortuna non si sono registrate particolari problematiche sulla circolazione autostradale e stradale si segnalano però incrementi di traffico intenso sulla tangenziale di Catania tra i svincoli di Paesi Ettenei e San Giorgio per un cantiere che crea delle file che a volte degenerano fino alla barriera di San Gregorio la solita chiusura dello svincolo di Enna da e per Palermo e a proposito di A19 sulla bretella A19 Enna per la SS 117b è stato istituito un doppio senso di marcia comunque alternato e gestito da impianto semaforico il cui limite di velocità è ridotto a 30 km a proposito di doppi sensi di circolazione in autostrada purtroppo ce ne sono molti in A20 e anche in A18 per esempio tra gli svincoli di Sant'Agata Minitello e Santo Stefano di Camastra per problemi strutturali sono stati istituiti doppi sensi di marcia sui viadotti Furiano e Buzz e tra gli svincoli di Patti e Brolo quello all'interno della galleria Calavà quella canna di mare chiusa per un importante incendio ad un mezzo pesante che ne ha condizionato l'uso e ce ne sono ancora in A18 sul viadotto muto tra gli svincoli di Roccalumera e la barriera di Tremestieri viabilità molto particolare perché si circola mentre i vicoli si incrociano la velocità è ridotta in maniera importante fino a 60 km di orari e chi circola in queste particolari tratte deve fare molta attenzione oltre al limite della velocità oltre a commisurare la velocità alle particolari condizioni è importantissimo mantenere la distanza di sicurezza questi in autostrada abbiamo registrato inoltre le organizzazioni di numerose feste numerose sagre a cura dei comuni marini pedemontani e montani della nostra bella Sicilia orientale fra l'altro manifestazioni abbondantemente pubblicizzate bene fa onore dalla vostra emittente a chi tende a raggiungere le predette località si raccomanda la massima prudenza per il possibile verificarsi di traffico di crearsi delle code che potrebbero creare problematiche alla circolazione sulle statali e sulle provinciali si augura quindi buon viaggio si raccomanda la massima prudenza di rispetto delle norme del codice della strada al fine di evitare incidenti stradali ricordiamo a tutti di guidare con prudenza e di allacciare le cinture anteriori e posteriori grazie grazie al dottore Fiasconaro che è il sostituto commissario della stazione di Sant'Agata di Militello per la Sicilia orientale compartimento della polizia stradale è un momento di sosta per noi c'è un momento di break riprendiamo subito dopo con le altre notizie e chiaramente dai quotidiani nazionali per vedere cosa succede non solo in Italia ma anche all'estero con Emanuela Corsi bentornati a Buongiorno Sicilia postazione rassegna stampa con Emanuela Corsi sì Angelo allora sono tre possiamo dire i principali temi di oggi che ritroviamo sulle prime pagine intanto il maltempo che ha colpito nuovamente l'Emilia Romagna con alluvioni e poi le due guerre la guerra in Ucraina e la guerra in Medio Oriente per quanto riguarda la guerra in Ucraina soprattutto il sì del Parlamento Europeo alla risoluzione per il sostegno all'Ucraina all'uso delle armi appunto europee occidentali nel territorio russo e poi ancora raid israeliani invece sulla fronte mediorientale nella sud del Libano parla il leader di Esbolla Nasralla che insomma annuncia o preannuncia venti di guerra intanto partiamo dal Corriere della Sera e vediamo appunto per quanto riguarda la guerra in Ucraina il raid in Russia sì dell'Europa questo è il titolo di oggi però c'è il no italiano sui missili senza limiti poi Fratelli d'Italia Forza Italia e PD approvano il testo finale la risoluzione dicevamo a Strasburgo Mosca dice sarà guerra nucleare Draghi nell'Unione Europea mercato unico dei capitali e poi in Libano cosa sta accadendo l'ira di Nasralla il segretario appunto di Esbolla superata ogni linea rossa e gli aerei di Israele sorvolano su Beirut e poi i colpi in Iran e a Esbolla la rivincita del Mossad gli 007 il ritorno alle missioni audaci l'altra notizia in primo piano dicevamo il maltempo in Italia danni dispersi scontro politico sull'alluvione aiuti alla Romagna lite tra Musumeci e Schlein intanto ci sono scuole chiuse e sfollati a un anno esatto l'Emilia Romagna si ritrova a fronteggiare un'altra emergenza alluvionale poi sempre restando nella prima pagina del Corriere c'è un'intervista all'uomo del volley lo possiamo definire così di Ulio Velasco dopo i successi ricordiamo alle Olimpiadi con questa medaglia d'oro vinta dalle nostre pallavoliste mio fratello fu torturato io lavavo vetri il volley mi salvò quindi c'è questo racconto cioè Ulio Velasco si racconta racconta anche quella che è stata la sua vita appunto al Corriere della Sera di oggi e poi c'è un'altra notizia la vediamo qui in Piccolo San Giuliano che denuncia adesso boccia parte l'indagine dei PM tutto questo mentre parte il famoso G7 della discordia il G7 cultura a Napoli chiaramente con un nuovo ministro perché sappiamo bene tutto quello che è accaduto nel frattempo andiamo a vedere le altre prime pagine a proposito della risoluzione che è stata votata a Strasburgo il no da parte dell'Italia Putiniani d'Italia questo è il titolo di oggi passa alla risoluzione finale pro-Ucraina ma la maggioranza orbaniana d'Italia vota compatta contro l'uso di armi in Unione Europea la stampa dimmi in Russia in Russia scusa armi in Russia la stampa si dell'Unione Europea l'Italia non ci sta e si sfila Mosca minaccia avanti così e ci sarà una nuova guerra mondiale nucleare ancora vediamo un'altra prima pagina il messaggero armi in Russia no bipartisan ucraina l'Europarlamento dall'ok all'uso dell'arsenale dell'Unione Europea oltre confine ma i partiti italiani votano contro con poche eccezioni e Mosca rischio guerra nucleare se Kiev usa i missili ma c'è anche il Libano in primo piano vediamo qui raid aerei di Tel Aviv sulla frontiera nord Libano l'ira di Nasralla su Israele l'attacco dichiarazione di guerra queste le parole appunto del leader del partito di Dio andiamo a vedere avvenire armi senza limiti a Kiev dall'Italia il no bipartisan questo è appunto il titolo principale l'Europarlamento vota l'uso in territorio russo si smarcano con distinguo fratelli d'Italia PD e Forzisti e poi restiamo su avvenire un'altra notizia perché arriva il nulla osta dal Vaticano a Međugorje nota vaticana approvata dal Papa in Bosnia Erzekovina nessun pronunciamento sulla soprannaturalità dei fatti cioè il Papa autorizza il culto a Međugorje però dice state attenti a quelli che si definiscono veggenti quindi diciamo un sì ma sempre con moderazione ecco da parte di Papa Francesco andiamo a vedere Repubblica invece dicevamo l'altro tema di cronaca ma anche con riflessi e ripercussioni politiche l'alluvione delle polemiche infatti titola così oggi Repubblica il maltempo flaggella l'Emilia Romagna e le Marche i fiumi esondano oltre mille sfollati due dispersi a bagna cavallo il governo contro la regione non ha fatto quello che doveva Schlein risponde sciacallaggio Mattarella elogia i soccorritori e sempre nel sommario vediamo anche il governatore di Banca Italia Panetta appunto ieri a Catania allungare i tempi della PNRR nel meridione rischio ritardi andiamo a vedere quest'incubo dell'alluvione in Emilia Romagna e scontro siamo all'interno di Repubblica di oggi mille sfollati due dispersi treni fermi scuole e strade chiuse Mattarella grazie a chi sta aiutando il governo la regione non ha speso tutto il denaro a disposizione ieri ricordiamo ha parlato soprattutto il ministro Musumeci Schlein parla di sciacallaggio elettorale ricordiamo che siamo in piena campagna elettorale in Emilia Romagna arrivati metà dei fondi chiesti dopo il disastro di un anno fa ma il piano antidissesto è fermo perché ci si chiede ma che fine hanno fatto i soldi che sono stati stanziati lo scorso anno quando sempre l'Emilia Romagna è stata colpita dall'alluvione ristori per famiglie e imprese col contagocce avviati due terzi dei cantieri per la messa in sicurezza dei fiumi eppure il maxipacchetto di interventi che dovrà evitare in futuro altre catastrofi è bloccato al ministero vediamo il giornale ecco qui Romagna disastro della PD il giornale dice che la colpa appunto è del partito democratico è scontro tra governo e regione piano sicurezza pronto soltanto a giugno è finito un lavoro su quattro libero scrive la macchina del fango nuova alluvione in Romagna esondano i fiumi disastro sempre PD velocemente ti faccio vedere ancora qualche titolo il fatto quotidiano invece scrive piove governo incapace un anno dopo stessa tragedia in Emilia in Emilia Romagna e ancora velocemente vediamo se ce la facciamo il tempo invece che dice è affondato il modello Emilia l'alluvione l'accusa di flop al PD il governo spesi male i soldi in dieci anni ha ottenuto quasi 600 milioni per il dissesto idrogeologico e mezza Romagna va sott'acqua bignami non hanno fatto nulla grazie Emanuela ci ritroviamo con te Frano molto intanto noi vediamo le previsioni meteo e dopo il primo dei nostri argomenti i primi ospiti della giornata buongiorno Sicilia parleremo di aggressioni negli ospedali ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo parziale miglioramento del tempo nella giornata di venerdì sul nostro territorio avremo solo residua e instabilità nell'arco della giornata sulle regioni adriatiche e in parte su quelle ionico in Sicilia dunque sarà una giornata inizialmente soleggiata con al più qualche nuvola di passaggio ma poi sarà possibile qualche locale più vigile nella seconda parte della giornata su parte del versante ionico ventilazione nel complesso debole a tratti moderata sul versante occidentale e con valori massimi che non andranno oltre i 27-28 gradi per la giornata di sabato avremo una temporanea rimonta dell'alta pressione questo determinerà parziali schiarite del cielo avremo solamente qualche nuvola in più nella seconda parte della giornata su parte del versante ionico con locali più vigini valori massimi diurni che non subiranno particolari variazioni tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo grazie a tutti Buongiorno Sicilia. Siamo adesso in studio con Maurizio Attanasio, che è il segretario generale della CISL di Catania. Buongiorno. Buongiorno. E vorrei sentire anche intanto in collegamento Tonino Ademana, che si trova davanti all'ospedale del pronto soccorso del Garibaldi Centro. Buongiorno Tonino. Ciao Angelo, buongiorno a tutti. Siamo al Garibaldi Centro e sono in compagnia dell'ospite Santo Bonanno, direttore del pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro. Benissimo, grazie. Fra poco torneremo da te. Chiedo di perfezionare anche l'audio. Abbiamo troppo effetto ambiente e poco Tonino Ademana. Comincio con Attanasio. Intanto partiamo da questa vostra iniziativa, poi i numeri li vediamo dopo. C'è una vostra iniziativa che è quella di lanciare una campagna di sensibilizzazione proprio sul tema delle aggressioni negli ospedali. In Sicilia, così come nel resto d'Italia, non mancano. L'ultimo è stato qualche giorno fa nel Siracusano. Un operatore del 118 è stato aggredito da familiari di un paziente che stavano soccorrendo. Ma a Catania ce n'è stata una, all'ospedale Garibaldi proprio pronto soccorso. A luglio, a Palermo, diversi episodi, al cervello, al bucchie di Laferla. Insomma, non è un fenomeno nuovo che fra le altre cose, ahimè, sta crescendo negli ultimi anni. Noi insieme alla Federazione dei Medici e quella del personale sanitario, quindi la CISL e le sue federazioni, abbiamo messo in campo tre misure. La prima è quella che diceva lei, quella della sensibilizzazione verso l'opinione pubblica. attraverso una campagna che abbiamo chiamato, prendiamoci cura di chi si prende cura della nostra salute. Lo stiamo vedendo, lo stiamo vedendo nella vostra locale. Esatto, dove parleremo sia con il personale ma anche con le persone. In attesa spiegheremo i codici, spiegheremo che quelle persone lì sono persone che devono assisterli, curarli e che quindi vanno sostenuti, non vanno aggrediti. Nello stesso tempo abbiamo agito, non è semplicemente quello l'aspetto, cioè quello della sensibilizzazione, ma abbiamo agito nei confronti del prefetto di Catania chiedendo la convocazione sia dell'osservatorio provinciale permanente per la salute e sicurezza, perché c'è una direttiva dell'anno scorso della regione siciliana che prevede l'aggiornamento dei DVR e inseriti dentro i DVR ospedalieri questa sciagurata circostanza come infortunio sul lavoro. E insieme poi abbiamo chiesto al prefetto di convocare anche il Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico, perché lei parla di questi episodi che sono quelli noti, perché bisogna spiegare agli spettatori, non è l'ospedale che denuncia, è il medico che deve denunciare, è il personale sanitario che deve denunciare. Quindi significa che a carico del medico e a carico del personale sanitario, poi c'è tutto quello che ne consegue tra la rappresentanza degli avvocati e quant'altro, e in più c'è anche il rischio. Lei si immagini un medico, un infermiere aggredito in un ospedale cittadino come San Marco e si ritrova in una condizione di isolamento amministrativo, perché deve da solo sobbaccarsi tutto questo, deve affrontare una questione molto pericolosa. Il terzo elemento invece è il confronto proprio con i direttori generali, perché si veda i percorsi che la regge regionale, quindi le indicazioni che ha dato l'assessore regionale, devono essere creati per dare maggiore sicurezza. E poi c'è la questione del rafforzamento del personale che manca. Che quello è importantissimo. Vorrei andare adesso dal direttore del pronto soccorso del Garibaldi Centro, Santo Bonanno, il dottore Bonanno, con Tonino De Mana. Abbiamo già visto in qualche modo evidenziato alcune criticità, ma io vorrei partire con lei dal problema forse più importante, cioè il poco personale. Questo in qualche modo rende ancora più complicato il vostro lavoro di frontiera, perché il vostro è un lavoro di frontiera, è un primo approccio per chi ha dei problemi e quindi quando siete in pochi e siete sempre pochi è più difficile gestire e poi magari ci sono questi episodi di escandescenza che non aiutano assolutamente. Buongiorno, buongiorno dottore Bonanno. Angelo, sei andato subito al nocciolo del problema e infatti stavamo commentando questo con il dottore Bonanno. Dottore, manca il personale. Partiamo da questo. Allora, buongiorno innanzitutto. Il personale da noi in questo momento è un personale che in effetti è distribuito in maniera forse diversa da quello che oggi si pensa come personale, perché in un pronto soccorso, e io parlavo proprio di questo con lui, le cause maggiori delle aggressioni sono dovute dettate dai tempi di attesa, i tempi di attesa che sono determinati da un'affluenza eccessiva all'interno del pronto soccorso. Faccia conto che la maggior parte dei utenti che vengono, quelli che hanno necessità di assistenza del pronto soccorso, forse rientrano nella percentuale, il 60% sono quelli che non hanno bisogno di cure. Questo cosa fa? E quindi mi riallaccio anche al discorso del personale. Questo fa sì che le sale d'attese sono sempre piene. Abbiamo una quantità eccessiva di patologia che non ha necessità del pronto soccorso, quindi poi, come voi sapete, gli infermieri danno quei codici di entrata, codice rosso, codice giallo, codice verde, che ognuno dei codici ha bisogno di un'assistenza particolare. Il medico non può pensare, ed ecco cosa voglio dire, la sala d'attesa piena, non si può pensare l'utente che il tempo deve essere distribuito per tutti in maniera uguale. Un codice rosso ha bisogno di un'assistenza assolutamente diversa. I tempi molte volte si raddoppiano. Un codice rosso ha un'assistenza di 20 minuti, mezz'ora, devi fare diagnosi, devi dare la cura, e quindi questo fa sì che il medico si deve occupare a 360 gradi e il paziente, e non solo il medico, c'è anche l'infermiere, c'è anche l'ausiliario, quindi c'è tutta una gestione che deve essere capita e compresa. Quindi l'utente che sta in sala d'attesa deve sapere che il medico, come ha detto poc'anzi il collega, il medico deve curare, deve dare il massimo al paziente, e per fare questo ha bisogno di tempo e non ha assolutamente bisogno di sentirsi dire dall'utente l'aggressione che poi deve venire con l'aggressione fisica o l'aggressione verbale, perché la maggior parte delle aggressioni sono verbali e sono quelle forse più brutte e più pesanti per chi lavora e sta facendo e sta svolgendo il proprio lavoro. C'è un dato, Angelo, che fa riflettere, e mi riferisco al 60% degli accessi impropi al pronto soccorso. Sì, ne sono ancora convinto, perché questo si rallaccia un po' al discorso della medicina territoriale, perché se funzionasse la medicina territoriale, il medico di base, il medico di famiglia, molte patologie non verrebbero al pronto soccorso. Faccia conto che tutte quelle patologie che hanno bisogno dell'assistenza immediata sono quelle che vengono con l'ambulanza, con il 118, ci sono quelli che vengono col mezzo privato. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che il paziente che viene perché gli manca il farmaco scritto, perché non ha l'insulina, o perché ha il problema dell'otite, sono patologie banali. Dottore, vi sentite in trincea? Ci sentiamo in trincea, ovviamente sì, anche perché in questo momento ormai è diventato un dato di fatto che comunque l'utente ha una suscettibilità assolutamente bassa, quindi basta un niente per cui già si trova pronto. Anche un fatto culturale fra medico e paziente ormai è cambiato, perché una volta il paziente, l'utente sapeva che dal pronto soccorso c'erano dei tempi e questi tempi erano dettati un po' da quelle che sono le necessità. Oggi è cambiato il sistema, oggi l'utente è pronto a criticare e soprattutto ha la pretesa, la pretesa di avere le cure nell'immediato. Questo non è possibile. I medici devono lavorare con assoluta serenità, perché senza la serenità non si può lavorare. E chiudo. Ricordate che per lavorare al pronto soccorso tutti dicono i medici se ne vanno, vogliono andare via. Vedete che lavorare in un pronto soccorso è anche una passione. Il medico che lavora al pronto soccorso lo fa con assoluta passione, perché la facilità di salvare una vita al pronto soccorso oggi rappresenta una delle cose più belle che un lavoro possa offrire. Lasciateci lavorare in pace. E per lavorare in pace voi avete tra l'altro un servizio d'ordine con dei vigilantes privati, tutto questo per garantire la vostra incolumità. Noi abbiamo all'interno del pronto soccorso e questo devo dire, lo dico con il rapporto forte che abbiamo con il questore e con tutte le forze dell'ordine, abbiamo all'interno del pronto soccorso un posto di polizia fisso. A questo l'azienda, il direttore generale, ha fatto sì che il servizio di vigilanza è stato quasi raddoppiato. Immaginate che abbiamo noi i vigilantes distribuiti anche all'interno dei locali. Questo chiaramente non credo che tutti i pronto soccorsi hanno questo tipo di attività, ma è certo che un pronto soccorso dove noi mediamente vediamo in questo pronto soccorso dai 100 a 150, anche 200 pazienti nelle 24 ore fa sì che l'affluenza porta ad avere questo tipo di sicurezza. Eppure gli episodi non mancano. Per esempio, c'è una... Sì Angelo? Sì no, vorrevo tornare un attimino in studio poi magari chiudiamo con il dottore Bonanno. Abbiamo sentito il responsabile del pronto soccorso del Garibaldi Centro parla di serenità che alla base di tutto la sicurezza viene garantito dalle forze dell'ordine perché c'è il posto di polizia e non ho in tutti diciamo i pronto soccorso diciamo presente questo posto di polizia molte volte ci sono delle guardie giurate che però hanno delle difficoltà perché non possono esercitare diciamo neanche l'identificazione eventualmente della persona che va in escandescenza. Tornerei a questa vostra iniziativa che è molto importante diceva prima il dottore Bonanno è un fatto culturale e da qui si parte esatto esatto e proprio da questo noi vogliamo partire una delle prime misure che mettiamo in campo è questo aspetto cioè parlare con le persone con il personale lo faremo distribuendo questo fiocchetto e questo volantino che abbiamo distribuito che abbiamo predisposto e in più poi parleremo con le persone spiegando qual è il lavoro che svolge il medico e il personale sanitario lo faremo ripeto con le nostre federazioni sia dei medici che del personale sanitario ma devo dare dei dati ieri c'è stato un incontro col ministro della salute sono 18.000 i casi accertati accertati quest'anno e poi ci sono gli epiloghi che conosciamo tristemente sia siciliani che del sud Italia ma 18.000 pare che la Sicilia non abbia mandato i dati al ministero però ci sono a conoscenza dei dati dell'INAIL l'INAIL ha lanciato l'INAIL Sicilia l'INAIL e Catania ha lanciato questo grido d'allarme perché sono in aumento i casi denunciati però ripeto non bisogna lasciare da soli i medici non bisogna lasciare da soli il personale in più c'è da dire bisogna pensare immediatamente al reclutamento il dottore è stato generoso nell'esposizione nel dire che c'è la volontà di andare al pronto soccorso lui sa perfettamente che invece nessuno vuole andare più nei pronto soccorsi proprio perché questa teoria è diventata una questione cogente e che ormai è una questione sociale normale cioè io aspetto mi secco ad aspettare aggredisco il medico o l'infermiere come una cosa normale poi è chiaro che aspetta quel personale denunciare o meno noi riteniamo che sia arrivato il momento di avviare un percorso di controtendenza parleremo con le persone sperando di non essere da soli noi chiamiamo ecco infatti vi ringraziamo per averci dato quest'occasione perché magari ritorneremo darvi anche dei risultati e perché ci dà la possibilità di parlare con la gente spiegare qual è il lavoro che fanno le persone noi come sindacato difendiamo i lavoratori ma difendiamo anche l'utenza certo ha ragione il dottore quando parla di fallimento della sanità del territorio perché noi ci aspetteremmo ancora speriamo che entro il 2026 quella riforma del PNRR che prevedeva le case di comunità possa per i non acuti raccogliere le esigenze del territorio e arrivare in ospedale solo gli acuti e quindi diminuire notevolmente diciamo gli afflussi e le ore di attesa 12 ore per un codice bianco sono tantissime direi di tornare da Tonino De Mana così andiamo a chiudere perché siamo un po' fuori dai nostri tempi Tonino un'ultima riflessione con il dottore Bonanno Angelo saremo telegrafici chiedo subito quali sono i rimedi per fronteggiare questa emergenza i rimedi in questo momento io intanto concordo con il collega perché già tutto quello che dice proprio lui come rappresentante dei sindacati è importante perché questo fa capire che questa unione fra i medici sindacati gli ordini dei medici perché questo fa sì che questa coesione porta finalmente ad avere delle soluzioni innanzitutto la prima potrebbe essere che in questo momento anche l'ha detto lui poco anzi anche il ministro della sanità per l'inasprimento di quelle che sono le pene quindi la facilità con cui veniamo aggrediti e poi la facilità subito dopo con cui bisogna prendere dei provvedimenti e so che su questo il ministero ma soprattutto i sindacati che ci rappresentano e che sono molto presenti e noi li sentiamo molto vicini perché è vero che in questo momento i medici pronto soccorso come ha detto il collega poco anzi dice non vogliono venire o vogliono venire ma nella sostanza questo servizio si deve dare quindi i medici ci vogliono e bisogna cercare di far sì che si possa come ho detto poco anzi lavorare insieme allora speriamo che questo grido d'aiuto sia ascoltato ringraziamo Santo Bonanno direttore del presidio pronto soccorso Caribaldo Centro e anche Francesco Santogono che ha detto alla comunicazione se non ci sono domande Angelo io ti restituisco la linea ci fermiamo qui grazie Tonino per questo tuo contributo devo ringraziare anche chiaramente Morisio Tanasio che è stato qui con noi in studio questa mattina faremo il punto al termine magari di questo martedì faremo la conferenza stampa di Lancio e daremo dati e tutti i dettagli dell'iniziativa faremo un resoconto di quanto di quello che è la vostra attività noi ci dobbiamo ancora una volta fermare restate con noi a Buongiorno Sicilia fra pochissimo parleremo di democrazia partecipata rieccoci in diretta Buongiorno Sicilia siamo con Viviana Lombardo che è assessora le politiche giovanili pari opportunità del comune di Catania stamattina parliamo e non è la prima volta di democrazia partecipata perché finalmente dalla fase diciamo della presentazione dei progetti dalla fase della scelta nel senso quelli che sono i progetti poi da poter avviare a questa votazione si passa proprio a questa fase esecutiva mi dice quanti sono stati i progetti presentati e quanti sono quelli scelti Buongiorno allora nel 2024 hanno presentato 24 progetti ma solo 8 sono stati ritenuti ammissibili da parte della commissione quindi all'interno di questi 8 progetti si potrà scegliere si potrà quindi votare il progetto più meritevole ma possiamo dire che cosa a cosa afferiscono cosa diciamo insomma sono stati ipotizzati quali lavori sono stati ipotizzati certamente chiaramente gli argomenti sono i più bari si va da un cantiere di rigenerazione di spazi sociali ad alcune acquisto di mille fontanelle un altro progetto prevede invece lavori di riqualificazione dello spartitraffico di una determinata via di catania sempre parliamo di arterie principali in un altro caso un progetto artistico nel quartiere di nesima dove di recente è stata inaugurata anche la fermata della metropolitana in un altro caso parliamo di mobilità pedonale in aree ricreative nel quartiere di trappeto un altro progetto propone invece dei giochi senza barriere quindi un parco gioco inclusivo parco gioco inclusivo e poi abbiamo ancora dei social fest di arte contemporanea e infine rigenerazione di un parco nella zona di via a Miraglio Caraccio perché ho chiesto questo? perché siccome c'è la possibilità chiaramente di votare per questi progetti adesso cerchiamo di capire come si fa a votare e dove si può votare perché chiaramente la democrazia partecipata è proprio questa c'è la possibilità da parte del cittadino di poter scegliere magari un'opera da fare e ci sono dei finanziamenti per queste opere certo per noi è fondamentale come amministrazione il rapporto con il cittadino quindi puntiamo moltissimo su questo strumento che consente proprio ai cittadini e peraltro anche non maggiorenni perché si può votare da 16 anni in su di poter appunto scegliere quale progetto vogliono finanziare e potranno partecipare tutti i cittadini che sono residenti chiaramente nel comune di Catania sia in forma singola che anche in forma associata quindi possono anche possono presentare progetti anche i cittadini le associazioni le comunità religiose mentre il cittadino che deve esprimere il proprio voto può rendere un solo voto chiaramente per ogni progetto e potrà farlo sia con accesso alla piattaforma Catania Semplice sul sito del comune di Catania mediante speed o carta di identità elettronica oppure potrà farlo recandosi presso lo sportello dell'URP quindi ufficio relazioni del pubblico presente in piazza Duomo al palazzo degli elefanti noi chiaramente prediligiamo la modalità telematica perché ormai oggi sappiamo che tutto si fa in modalità telematica questo invoglia soprattutto anche i giovani a votare a dare il contributo per questa scelta negli anni passati sono già state fatte diciamo delle opere grazie alla democrazia partecipata sì dicevo appunto non è un caso che si è scelto con il regolamento che è stato approvato di recente all'unanimità dal nostro consiglio comunale si è scelto di includere i giovani perché proprio pensiamo che le idee più innovative più belle anche più particolari per la città possono provenire proprio certamente dai giovani negli anni scorsi sono state realizzate già diverse iniziative con la democrazia partecipata si è stata restaurata la fontana dei Malavoglia a Piazza Verga che sappiamo una fontana insomma anche così è un simbolo per la nostra città e sono stati fatti anche degli interventi per esempio di manutenzione dell'asfalto in alcuni quartieri anche considerati periferici come Vaccarizzo e Villaggio Primosole sono stati acquistati e piantati oltre 2000 alberi in città e a breve quindi questo già lo posso dire entro ottobre partiranno i lavori per la realizzazione del giardino verticale a Librino dove vi sono gli orti urbani è stato approvato con un progetto di democrazia partecipata proprio che prevede la realizzazione di giardini verticali quindi c'è tanto fermento attorno a questi a questi progetti che in qualche modo consentono direttamente a tutti noi i cittadini di poter dare il nostro contributo e nella presentazione del progetto ma anche nella fase proprio della scelta di questi progetti assolutamente sì lei poc'anzi mi ha chiesto qual è la fonte di finanziamento è una legge regionale che ci consente di utilizzare circa il 2% dei finanziamenti che provengono dalla regione anzi ci impone di utilizzarli per progetti di democrazia partecipata la cifra sta intorno a 200.000 euro l'anno quindi non sono pochi infatti dicevo che se il progetto che viene votato di più quindi che raggiunge il massimo dei voti è un progetto ipotizziamo che non impegna tutti i 200.000 euro si potrebbe ipotizzare anche di premiare quindi realizzare sia il primo che il secondo classificato diciamo così in questa scelta allora vorrei insisto sul sistema di votazione perché online basta andare sul sito chiaramente ufficiale del comune di Catania dove c'è un'apposita sezione dedicata proprio alla democrazia partecipata per quanto riguarda invece la votazione fisica cioè all'ufficio per le relazioni pubbliche bisogna presentarsi direttamente lì ma a determinati orari allora magari ricordiamo perché è giusto magari si arriva lì e poi magari l'ufficio è chiuso dalle 8.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 17 allora lunedì e venerdì da mattina 8.30 a 13 i giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30 questo chiaramente consente a chi magari si trova a passeggiare in città e volesse esprimere il proprio voto magari non va direttamente solo per questo motivo ma sta passeggiando e si ricorda che c'è questa possibilità questa opportunità di poter dare il suo contributo assolutamente dobbiamo precisare che questa votazione potrà essere espletata entro il 9 ottobre 2024 perché il termine la scadenza è il 9 ottobre 2024 alle 23.59 quindi entro la mezzanotte non deve essere scattato il 10 di ottobre dopodiché chiaramente la commissione esaminatrice si occuperà di verificare chiaramente la validità del voto che non vi siano duplicazioni perché chiaramente ci sarà un sistema automatico che va a verificare che non vi sia stato chiaramente inserendo i propri dati digitali cioè ho la carta identità digitale oppure lo speed è automaticamente abbinato al codice fiscale quindi viene effettuato un controllo incrociato e si capisce subito se qualcuno ha votato più volte e poi dopodiché verrà scelto appunto colui che ha il progetto che ha totalizzato più voti e i tempi di realizzazione di questi progetti? allora dipende chiaramente molto anche dalla fattibilità del progetto e dal business plan che vi sta dietro per esempio nel caso degli orti degli giardini verticali a Librino c'è stato qualche piccolo rallentamento perché era una cosa un po' più complicata quando si tratta di una ristrutturazione di una fontana come nel caso di Malavoglia i tempi sono stati veramente brevissimi quindi bisogna capire qual è il progetto che vincerà ma certamente noi ci attiviamo subito e comunque sono fondi distanziati quindi certamente si realizzeranno non vanno persi noi ci teniamo tantissimo puntiamo molto su questa forma di democrazia mi sembra di capire che negli anni c'è stata una sempre maggiore partecipazione allora devo dire grazie anche come dicevo poc'anzi all'approvazione del regolamento da parte del Consiglio Comunale che ha approvato all'unanimità ripeto il regolamento quindi un regolamento bipartisan che ha coinvolto sia maggioranza che opposizione ma grazie anche all'attenzione del nostro capo ufficio stampa che è il dottore Molino che chiaramente ci tiene tantissimo e investe tanto su questa misura allora prima di chiudere non posso non chiedere qualcosa a quelle che sono le sue delega che sono diverse politiche giovanili e pari opportunità ci sono progetti imminenti che stanno per scattare? tantissimi allora come pari opportunità politiche giovanili proprio un paio di giorni fa abbiamo nuovamente lanciato la campagna di corsi di attività pomeridiane che si svolgono gratuitamente per tutti i nostri cittadini quindi il nostro personale dipendente con le nostre risorse interne avvierà a partire dalla prima settimana di ottobre fino a luglio del 2025 questi corsi rivolti alla cittadinanza che sono appunto ripeto gratuiti e sono di ogni genere sostanzialmente noi con i ragazzi del servizio civile forniamo corsi di inglese e di lingua italiana per gli stranieri con i corsisti dello scorso anno che si sono resi volontari stiamo facendo corsi di pittura e di decoupage e il nostro personale interno quindi con i nostri animatori scolastico culturali facciamo anche corsi di posturologia public speaking e anche corsi di teatro quindi anzi invito i nostri cittadini che vogliono partecipare a mettersi in contatto appunto tramite i canali che sono presenti mediante i social e anche con i numeri di telefono indicati sul nostro sito mettersi in contatto con il nostro ufficio politiche giovanili per poter iscriversi gratuitamente a questi corsi c'è fermento grazie grazie veramente all'assessore Viviana Lombardo che ci ha raccontato sì la democrazia partecipata ma anche le prossime iniziative del suo assessorato a presto magari faremo il punto sulla scelta di questa opera che è stata indicata e quando cominceranno i lavori magari avremo a verificare grazie ci vediamo dopo il 9 ottobre ci vediamo dopo il 9 ottobre grazie e allora ci fermiamo ancora fra poco di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia Bentornati a Buongiorno Sicilia in studio con me c'è il maestro Francesco Costa buongiorno buongiorno direttore del coro lirico siciliano stamattina parleremo sì di una manifestazione di un vostro cartellone una serie di spettacoli che sono i teatri di pietra in Sicilia fra poco ci addentreremo anche in questo però la curiosità che mi viene subito che vorrei insomma vorrei parlare con lei di questo fatto cioè come si fa a fare un'opera lirica in lis con il linguaggio dei segni che è una cosa particolare caso unico esatto siamo innanzitutto grazie allo spazio che ci avete dato il feste dei teatri di pietra di cui ovviamente mi onoro di dirigere artisticamente ha sempre proprio voluto includere proprio dare accessibilità massima anche perché l'opera lirica è un genere che è nato quale opera per il popolo quindi popolare quindi non ci deve essere alcuna sorta di barriera dall'anno scorso vi avevo ideato proprio questo progetto in collaborazione con l'ente nazionale sordi anche con l'associazione Sicilia Turismo per Tutti proprio di rivoluzionare culturalmente quello che può essere anche un paradosso perché se noi pensiamo ovviamente alla musica all'opera lirica per una persona ovviamente che è sorda dice come è possibile che assista allo spettacolo d'opera invece sì può accadere perché si va oltre l'essenza della musica e quindi attraverso questo la lingua dei segni quindi le interpreti lisse che proprio recitano interpretano passo dopo passo e si riesce a creare anche tramite le vibrazioni quindi la stessa orchestra il coro i cantanti le pietre dei teatri si trasformano veramente in delle vere e proprie vibrazioni e abbiamo fatto diciamo assai particolare particolarissimo perché voglio dire chi fa l'interprete in questo caso deve trasmettere sentimenti emozioni esattamente esattamente soprattutto la particolarità è che siamo l'unico caso a livello diciamo quantomeno nazionale di una traduzione che è contestuale quindi se ad esempio sabato fermo cavalleria rusticana quando ci sarà l'urlo di hanno ammazzato con un pari di riddo le interpreti contestualmente ovviamente diranno ovviamente quello che ci sarà l'urlo insomma descriveranno il momento descriveranno ovviamente il momento e quindi poi attraverso la particolare ovviamente anche la scena la visione di quello che accade si può creare anche in questo caso magie ed emozione stavo pensando che ci divesse anche una grande preparazione anche nella conoscenza esattamente dell'opera esattamente perché altrimenti consideriamo che i libretti d'opera hanno sempre ovviamente un linguaggio anche abbastanza diciamo antico quindi è giusto anche contestualizzarlo quindi renderlo ovviamente fruibile con una ovviamente una dicitura diciamo con un modo di parlare un po' più quotidiano quindi ovviamente rendere il tutto accessibile e facile una bella cosa una bella cosa davvero complimenti per questa idea che è unica abbiamo detto siamo unici a livello nazionale speriamo veramente che questo progetto dalla Sicilia di cui siamo veramente orgogliosi che proprio parta proprio dai teatri di pietra siciliani possa essere steso ovviamente in tutti i teatri d'opera e non a livello nazionale adesso parliamo del festival nel festival teatri di pietra in Sicilia un cartellone piuttosto diciamo robusto esattamente tante le date esatto ci si avvia verso la chiusura con un con uno spettacolo che si terrà a Catania al teatro antico si rappresenterà che cosa ci vuole dire quale sarà l'opera che chiuderà il cartellone esatto abbiamo proprio inaugurato sull'Etna proprio per fare questa celebrazione di riunire ovviamente il canto lirico quale patrimonio unesco insieme all'Etna ovviamente che è patrimonio unesco e la pietra nera sta fungendo da tre d'union ovviamente in questo festival e concluderemo il 21 settembre con Cavaleria Rusticana che già per fortuna è in tutto esaurito al teatro antico di Catania e il 22 invece un evento eccezionale perché veramente Catania si sta consacrando quale palcoscenico internazionale su questo siamo particolarmente orgogliosi perché si tratta del recital del soprano belcantista più famoso più glamour al mondo immaginiamoci che Catania il 22 settembre continua ad Amarrao è l'unica tappa nazionale perché dopo la signora farà solamente Statsoper di Berlino più l'Arboria di Parigi eccetera e questo per noi è un grande pregio perché se consideriamo che è al teatro antico di Catania che finalmente anzi si sta nuovamente riaprendo quindi ritorna veramente a respirare d'arte e di musica è un teatro particolare perché la stessa casa natiera di Bellini si erge proprio quasi dentro il teatro e per un artista come Damarrao che sta anche una grandissima interpreta ovviamente belliniana alla vigilia del 23 settembre che è la giornata ovviamente dedicata a Bellini celebrare il nostro Cinghietneo e il Belcanto in questa sedia particolare sarà sicuramente un momento unico quindi ovviamente imperdibile il 22 settembre al teatro antico di Catania teatro greco romano chiamiamolo un po' anche Odeone molti dicono eccetera con ingresso dai via teatro greco però una curiosità anche questo sarà in LIS la Cavaleria Rusticana del 21 settembre sarà anche questa ovviamente in LIS perché è in collaborazione con l'ente nazionale l'ente nazionale Sordi e continuiamo ovviamente questa operazione per l'opera lirica della traduzione contestuale diciamo che non c'è che aspettare qualche giorno e poi godere di questo spettacolo unico e nel vostro cartellone ci sono state tantissimi altri diciamo personaggi diciamo degli interpreti importanti sono una parata di stelle questa vostra questo anno esattamente quest'anno è stato veramente un festival innanzitutto perché abbiamo più di quasi 40 tappe abbiamo proprio toccato dalla Selinunte ad Agrigento a posti anche sconosciuti perché il festival è anche questa missione di valorizzare attraverso lo spettacolo dal vivo siti di attica bellezza che purtroppo però non sono battuti tanto dal turismo internazionale anche perché in Sicilia forse abbiamo un po' troppo e quindi a volte può capitare che qualche sito possa sfuggire come ad esempio la villa romana di Terme Vigliatore abbiamo celebrato quest'anno il centenario di Maglius Galambro insomma grandissimo personaggio attraverso un format inedito dedicato a battiato battito spirituale abbiamo avuto Elena Mosuk in Turandotte in formato e sempre nella lingua dei segni sia a Tormine che a Tindari e il tributo ovviamente a Ennio Morricone con Alberto Urso Cavallega Russicana avrà Anna Maria Chiuri che è uno dei nomi scaligieli più rinomati insomma veramente grandi nomi un grande complesso che è il corollirico siciliano l'orchestra in residence l'orchestra spilarmonica della Calabria quindi questo ponte ovviamente per un sud per un meridione che è veramente ci facciamo sentire quale ponte di cultura e anche non tanto per altre notizie insomma una Sicilia che si dà da fare per rivoluzionare culturalmente in bocca al lupo buon lavoro al Francesco Francesco Costa maestro Francesco Costa che sia qualcosa di diciamo spettacolare lo stiamo intuendo dalle sue parole magari chi è curioso potrà venire a vedere Cavalleria Rusticana il 21 e il 22 il 21 Cavalleria Rusticana che è già tutto esaurito quindi sarà per il prossimo anno il 22 c'è ancora disponibilità Diana Damrau quindi con un escursus tra Don Giovanni Norma e Capolete Montecchi Sonnambola insomma al bel canto italiano al bel canto grazie davvero grazie a voi ci fermiamo vediamo diciamo delle pillole di Ammanacco e poi volteremo decisamente pagina perché andremo a parlare di stelle con Marco Amato Il 20 settembre viene celebrata la giornata internazionale dello sport universitario nata nel 2016 per volere della FISU Federazione Internazionale degli Sport Universitari rappresenta una celebrazione del sudalizio tra sport e studio universitario a dimostrazione che il primo è una vera e propria palestra di vita capace di migliorare le performance scolastiche e lavorative lo sport insegna che per la vittoria non basta il talento ci vuole il lavoro e il sacrificio quotidiano nello sport come nella vita queste le parole del celebre atleta Pietro Mennea riguardo il ruolo dello sport nella quotidianità sapete cosa significa organico e sì c'entra anche con la raccolta differenziata in senso chimico le sostanze organiche contengono carbonio ed il termine generalmente è limitato ai composti che contengono carbonio e idrogeno il carbonio costituisce il 20% di tutti gli esseri viventi e nessun altro elemento ha una simile versatilità strutturale per comportarsi allo stesso modo ma quindi che c'entra la raccolta differenziata quando la natura segue il suo ciclo spontaneo il carbonio in tutte le sue forme torna al suolo dove si disgrega nuovamente per il ciclo successivo quindi è molto importante raccogliere tutto l'organico e metterlo nell'apposito contenitore in modo da poterlo smaltire nel modo più semplice ed ecologico possibile adesso andiamo da Marco Amato cosa dicono quest'oggi buongiorno buon caffè splendida buongiorno tassina colorata stamattina con che sono dei frutti anni 70 anni 70 c'è una pera no non solo la pera ci sono anche una pera e una mela sono molto stilizzate proprio come nell'idea degli anni 70 di stilizzare un po' con questa armocromia molto semplice e con queste forme un po' e renderle di design ecco ci sorprendi sempre con le tue tazzine cosa dicono per il fine settimana le stelle allora è un fine settimana decisamente vantaggioso e positivo con l'ingresso di una bella e voluttuosa luna in toro la luna in toro è una luna comodosa è una luna che cerca i piaceri la calma e soprattutto la quieta ma in toro abbiamo il pianeta urano il pianeta della forza di decisione della libertà quindi vedremo i segni giudicali in questo fine settimana decisamente più smarcati più liberi e con la voglia di fare cose nuove ma che rechino solo piacere in particolare sua maestà toro è il padrone di questo weekend decisamente molto intenso e comodo e pieno di piaceri quindi anche vergine e capricorno che sono gli altri due di terra risolveranno bene tutta una serie di emozioni e sensazioni come il capricorno a marte contro quindi un'alternanza di emozioni passioni magari c'è un'attrazione non meglio compresa ma alla quale vi arrenderete mentre invece la vergine viene finalmente accontentata nel suo desiderio di fuggire andare via e riposarsi per un weekend quindi godetevi questo riposo se va bene ai terra per regola zodiacale va bene anche agli acqua tranne chiaramente allo scorpione perché la luna sarà in opposizione quindi lo scorpione deve metabolizzare qualcosa che proprio non gli è andato giù ma benissimo per cancro e bene anche per pesci che ritrovano l'armonia in pesce affettiva mentre il cancro si impunta su un progetto e convince tutta la truppa a seguirlo nella sua napoleonica conquista bene sempre per regola zodiacale se la luna è di terra gli aria sono un po' più rallentati quindi acquario sta un po' più in disparte ma c'è abituato è naturale mentre invece gemelli e bilancia tenderebbero un pochino più a essere emotivi gemelli in questo weekend la bilancia invece vuole assolutamente di nuovo ribadire le sue idee su come procedere in famiglia per affrontare determinate progettualità il fuoco leone in panchina e il leone per adesso non è molto contento del fatto che deve stare un po' calma e occuparsi di cose di casa ci sarà il vostro momento ariete avete ritrovato comunque una grande forza attiva è questo weekend dove potete spendere anche un po' di più e farvi un piccolo regalo per ultimo il sagittario che finalmente non si sente più limitato come prima e si può esprimere comunicativamente un po' meglio e detto questo vi auguro uno splendido fine settimana e buongiorno Sicilia grazie a lunedì Marco adesso invece vediamo il weekend a Rosolini c'è il Carro a Fest la seconda edizione della festa dedicata al Carrubbo si svolgerà dal 20 al 22 settembre con un programma articolato in una serie di iniziative rivolte sia alla comunità che ai viaggiatori vi auguriamo un buon weekend e ci sentiamo la prossima settimana molto bene grazie Emanuela le ultime dai quotidiani sì da Repubblica a quanto pare non decollano le auto elettriche prezzo e piccoli disagi questi sarebbero i votivi ecco perché l'auto elettrica non sfonda in Europa ad agosto un nuovo crollo delle vendite dei veicoli e batteria un meno 36% e poi velocemente una guerra tra rapper e in corso lo vediamo sul Corriere della Sera Tony F attacca Fedez il rapper di sesso e samba dice hai fatto i figli soltanto per postarli sui social cattivo cattivissimo e poi c'è anche la replica è la replica di lui che dice sei scarso nei valori ecco grazie grazie Emanuela ci ritroviamo ovviamente lunedì con Buongiorno Sicilia torniamo lunedì ma intanto ci lasciamo oggi è il 20 settembre in questa giornata sono nate Mia Martina e la sorella Lorenana Bertè adesso riascoltiamole insieme in una esibizione di Sanremo con Stiamo come stiamo a tutti chiaramente buon fine settimana grazie a tutti